Loredana Bertè ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato del momento più drammatico della sua vita e degli errori commessi. Loredana Bertè è una delle artiste più famose e che hanno fatto la storia della musica italiana. L'artista ha avuto una carriera incredibile, piena di successi, di stravaganze, di provocazioni. Il suo look, il suo carattere forte ed esuberante hanno sempre attratto il pubblico. Recentemente l'abbiamo anche vista ad amici come giudice e le sue opinioni hanno sempre fatto molto discutere. Ma non è in discussione la stima e l'affetto per lei che ha dovuto anche affrontare una vita molto difficile fatta di molti drammi. Quello più difficile da affrontare è stata la scomparsa di sua sorella. Ma ecco che cosa ha detto in una recente intervista al Corriere della Sera. Oltre ad amici come giudice, Loredana ha anche ripreso dopo un po' di tempo la sua carriera musicale. Ha partecipato a Sanremo e ha avviato una serie di collaborazioni con molto successo. Ma nell'intervista ha ammesso i suoi errori e ha parlato del momento più brutto della sua vita. Il periodo più drammatico della sua vita, ovviamente, è stato quando è morta la sorella Mimi. Ecco le sue parole. Quando è venuta a mancare Mimi nel 1995 ho pensato di mollare. Mi sono chiusa in casa a fissare il soffitto per due anni. Poi ho incanalato quel dolore sempre e comunque nella musica. Questo trauma l'ha portata a rivalutare tutta la sua vita. Non ha avuto problemi, quindi, ad ammettere gli errori che ha commesso. Ad esempio, crede che una grande «fesseria» sia stata quella di lasciare la sua carriera per seguire Borg in Svezia. Ecco che cosa ha detto. Io credevo di farmi una famiglia, ma non è andata affatto così.